ciao a tutti ragazzi in questo momento è un video su throw stars prima stavo giocando con un amico e questo sarà un video prima faremo questa frequenza e poi tra un po' di video quando avrò sbloccato molte più casse farò un box opening comunque io mi chiamo 007 matti iscrivetevi al canale attivate la campanellina dei modi le notifiche e seguitemi sempre in tutti i video e ora iniziamo let's go da e se volete farà un pio addiorno di brin staccia sono un po' bulla No WANNA BALL? Now mess with me! ma che sfiga ragazzi 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 comunque ho visto il nuovo aggiornamento con hashtag noi l'abbiamo visto così ok 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 Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Don't mess with me. Stop it. Stop it. Not party. Don't mess with the ball. 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 ... ... ... ... Ahahahahaha! Ahahahah! 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 You wanna crawl? I can't do that! I can't do that! Don't mess with the bull! Don't mess with me Stop it Not fighting I'm not fighting I'm not fighting Sì, non è vero. No, 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 no Grazie a tutti 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 La prossima volta ragazzi Ciao Ciao Ciao